Allora, intanto un saluto a tutte le lettrici di Bigotino.it, alle quali ricordo che il 17 aprile uscirà Ti sposo ma non troppo in tutte le sale italiane, che infonde un film che parla di amore, che parla di donne, che parla delle donne che seguono Bigotino.it e che hanno voglia di innamorarsi o di rinnamorarsi. Quindi mi raccomando, vi aspetto al cinema dal 17 aprile, Ti sposo ma non troppo. Viva Bigotino.it, vi aspetto al cinema, ciao!